Amici sportivi un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti al Pala Rosselli di Aprilia quest'oggi diciottesima giornata del campionato di serie di Girone A lo United Aprilia ospita l'R11 Latina una sfida che a guardare la classifica sembrerebbe davvero scontata partiti Di Giorgio ancora per Trobbiani fermato, non c'è fallo e allora R11 in avanti con il diagonale pericoloso di Manuel Pardo si ricomincia ma ancora un errore da parte dell'Aprilia imprecisa in questo avvio e allora ci prova Morzilli che mette dentro il vantaggio dell'R11 Latina Galieti poi la rovesciata di Valente per Trobbiani la combinazione con Valente non si chiude ma c'è ancora extra possesso Guaramonti prova il destro Galieti palla sul palo Galafate esplode il destro ribattuto allora Dani Spardo proiezione offensiva il destro palla sul fondo si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso Uccellini prova il destro la respinta di Sacchetti ancora Uccellini stavolta ad opporsi Ambrosini Sacchetti Sacchetti prova a liberare il destro Sacchetti il vantaggio dell'Aprilia Criscuolo pallone dentro Galieti fuori arriva il gol 3-1 diagonale vincente di Luca Galieti per Criscuolo pressato ruba palla Morzilli miracolo di Ambrosini Di Giorgio Valente per Di Giorgio Galieti carica il destro palla deviata e allora di nuovo Cipriani il destro la parata di Ambrosini Manuel Pardo il sinistro ancora Ambrosini Denis Pardo pallone che finisce sul palo dopo la deviazione di Grossi poi il pallone che finisce a Galafate Galafate per Guaramonti Di Giorgio Galafate 4-1 per lo United per Sacchetti ancora Guaramonti prova il destro Guaramonti il palo per lo United che sfrutta ancora il break di Trobbiani lascia Trobbiani ancora Criscuolo sull'out di sinistra la traversa colpita fischio dell'arbitro Criscuolo e la palla è rete punizione vincente poi va via Morzilli fermato però da Criscuolo Criscuolo ancora lui il gol di Sacchetti che conclude questa azione di contropiede rapidissima dentro per Criscuolo arriva di gran carriera Trobbiani pallone respinto pallone ancora lì Trobbiani Tontini che parata Guaramonti valente Guaramonti palla in rete triangolo vincente della formazione di Maggi riconquista il pallone Guaramonti ma non c'è più tempo termina questa sfida al pala Rosselli lo United d'Aprilia vince 7 a 1 contro l'R11 Latina un saluto da Fabrizio Agostini e a risentirci al prossimo appuntamento